Aumenta nell'area lariana, Como e Lecco, il numero di imprese registrate alla Camera di Commercio. Al 30 giugno 2022 le imprese lariane iscritte nel registro camerale crescono di 400 unità rispetto a fine giugno 2021. Un aumento legato principalmente al territorio comasco dove si contano 385 iscrizioni in più contro le 15 di Lecco. In provincia di Como le imprese sono aumentate dello 0,8%, in provincia di Lecco dello 0,1% e in Lombardia dello 0,2%, in Italia le imprese invece nello stesso periodo sono diminuite dello 0,6%. Sempre a fine giugno la maggior parte delle imprese lariane, il 22%, oltre 1 su 5, operava nel mondo del commercio. Seguono poi settori di costruzioni e servizi finanziari, assicurativi e immobiliari. Lecco ha una quota quasi doppia rispetto a Como nel metalmeccanico e ha una concentrazione maggiore di aziende commerciali. A Como invece hanno un peso maggiore le imprese del tessile, del legno arredo, del turismo e della ristorazione.